Che cosa la colpisce di questa manifestazione? Perché è importante? Innanzitutto Bergamo Incontro ormai ha una bellissima storia ed è una storia appunto di incontro. Man mano la collocazione sempre più centrale anche nel cuore della città dice di questa disposizione, non di una imposizione ma di una disposizione, quella appunto di incontrare, incontrare la città, incontrare certamente gli amici ma incontrare anche tanti sconosciuti che attraverso questa presenza si affacciano, si affacciano ad un incontro, quindi ad una relazione, ci sono persone, il loro volto, le loro convinzioni, la loro accoglienza e certamente anche il loro messaggio che di anno in anno si rinnova, certamente quest'anno di grande interesse, a volte ci si domanda chi è Dio, la domanda pertinente è dove è Dio, appunto il titolo di questo incontro di quest'anno e certamente le risposte saranno sconfinate, è lo stesso Vangelo che ci consegna questa domanda quando i discepoli appunto interessati, incuriositi dalla figura di Gesù, gli diranno proprio Maestro dove abiti? Dio dove sei? È una domanda che nasce molto spesso nelle situazioni dolorose, nei momenti di smarrimento, è una domanda comunque che continuerà a percorrere le vie degli uomini perché nella misura, a mio giudizio, che vogliono rimanere umani è importante che questa domanda continuino a porsela.